E' forse la chiesa più antica della Toscana. Si trova sul colle di Fiesole, lungo l'erta che dalla cattedrale porta al convento di San Francesco. E' la basilica di Sant'Alessandro. Risale al VI secolo d.C. ed è stata recentemente restaurata. La chiesa ospita in queste settimane una bella mostra di vetrate eseguite da Luisa del Campana, che applica il metodo degli antichi maestri a motivi e disegni ispirati alle più recenti correnti artistiche. La mostra è stata organizzata dalla Caritas Fiesolana per raccogliere fondi in favore della Somalia. Attualmente la mostra è aperta solo il pomeriggio, dal 2 al 29 novembre, giorno di chiusura. L'orario cambia in considerazione delle giornate più corte, dalle 10 alle 17.